L'origine è il movimento Ma dipende dal movimento Dal movimento A cosa vuoi dare origine quando dentro tutto fermo? A cosa vuoi dare origine quando dentro tutto fermo? Su l'onda di questa onda nessuno si muore Su l'onda di questa onda nessuno si muore Umani spettatori Su un movimento Irrefrenabile C'è qualcuno che osserva e dice Guardate le pensumare Su l'onda di questa onda Su l'onda di questa onda nessuno si muore Umani spettatori C'è qualcuno che osserva e dice Guardate l'immenso mare Vi accontentate solo di farvi trasportare? Guardate le pensumare Guardate le pensumare Guardate le pensumare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.